partito chiedendo a Laura Canali, cartografa di Limes, una delle sue geopoesie, ma anche l'aiuto a sviluppare quel piano della mostra che voleva raccontare la situazione geopolitica dell'America kennediana anche nei suoi profili in giro per il mondo e insieme al curatore Sergio Germec Germani e alla Cineteca del Friuli, saluto Livio Jacopo e Piera Patat che sono qui, abbiamo proprio ragionato su come concentrare in un piano questa situazione incredibile che si era creata negli anni 60 e che aveva dei riverberi nella situazione attuale non previsti quando si era cominciato a parlare del progetto allo specchio dell'era Kennedy perché non era ancora scoppiata la guerra in Ucraina, quindi le mappe di Limes veramente ci sono venute in aiuto e arricchiscono quel piano così come una copia di una geopoesia famosa che si chiama Spigolosità di Laura che ha campeggiato fino a due giorni fa in castello. Domani sveleremo l'originale invece della geopoesia che l'abbiamo commissionato proprio per questo progetto e per questa geopoesia Laura appunto ricordava il sindaco in un momento meteorologicamente nefasto è arrivata in Friuli, in punta di piedi, e ha cominciato a osservare già avendo studiato la nostra storia, già essendosi interessata un po' di tutte queste sfaccettature che questa terra un po' in alto a destra per i romani non è che svela con grande capacità comunicativa, me ne ha fatto rendere conto lei stessa e anche altri partner romani di questo progetto perché appunto essendoci questo focus sugli Stati Uniti anche l'Istituto Affari Internazionali ci ha dato una mano così come la stessa ambasciata al Consolato di Milano ma anche per esempio la Robert Kennedy Foundation di Firenze. Tutti interessati al fatto che si sviluppasse valorizzando questo grande archivio, questo grande fondo Kennedy che la Cineteca del Friuli ha che a Roma conoscevano ma forse a Gemona nessuno conosceva ecco ci ha permesso di capire che forse dovevamo imparare a raccontarci un po' di più e Laura incredibilmente in quei tre giorni girovagando in mezzo a tanta acqua che giustamente diceva sembrava piovere in orizzontale in certi momenti e fra Carso, San Michele, Aquileia, Venzone ha accolto questo spirito un po' ruvido ma profondo e l'ha reso in un'opera che onestamente quando l'ho vista mi ha fatto sgorgare le lacrime e non è per dire è veramente così perché l'ho chiamata con con la voce rotta dalla commozione. Quindi io direi che prima di dare la parola a Laura appunto cartografa di Limes dall'inizio da quando è stata fondata da Lucio Caracciolo la rivista Italiana e Geopolitica nel 93 ha creato per noi quindi chiedo alla regia gentilmente di proiettarla e domani vi invito per chi ha prenotato perché purtroppo i due turni erano su prenotazione quelli guidati da Laura a andare a vederla comunque nei prossimi mesi in castello. Eccoci qua con odore di terra romanza. Laura a te. Buonasera e grazie di essere qui e mi dovrete forse scusare quando avrò dei colpi di tosse perché io sono stata malata fino a qualche giorno fa e ancora però non volevo mancare questo appuntamento. quando finisce un disegno c'è un momento di distacco che avviene tra l'autore e il disegno stesso è un momento necessario perché ci vuole tanto tempo per elaborare, studiare, pensare a come risolvere tutta una serie di idee per dargli giusto un sentore perché la geopoesia è questa, vuole essere un appiglio qualcosa che dove ognuno di voi, ognuno di chi vuole con la propria sensibilità più o meno marcata ritrovare una suggestione o anche un ricordo è uno stimolo per i sentimenti, questo è quello che cerco di ottenere la geopoesia nasce da un'esigenza della geopolitica perché la geopolitica e la geopoesia sono due parti di una stessa persona vogliamo dire, non perché le faccio io tutte e due ma sono necessarie una all'altra perché la geopolitica è un lavoro molto analitico i disegni geopolitiche, le mappe geopolitiche, devo studiare molto, seguo gli autori quindi leggo tante cose e devo poi realizzare un disegno che ha, sì, sempre degli aspetti creativi perché devo trovare delle soluzioni anche lì ma soprattutto devo essere fedele a tutta una serie di, chiamiamole regole che sono quelle che rendono poi una mappa credibile, che non è frutto della mia fantasia o delle mie idee ma che rispecchia il pensiero degli autori nella rivista quindi questo esercizio che non è proprio semplice, soprattutto in un'epoca in cui leggo e se stessi vengono messi al centro di ogni cosa ecco io faccio esattamente l'esercizio opposto, cioè io devo smontare tutto quello che penso, come se mi annullassi in qualche modo perché divento un tramite con i miei disegni tra la rivista, gli specialisti e gli analisti e il lettore e cosa succede però? Non è proprio semplicissimo gestire questo fatto perché anche io le mie opinioni soprattutto in situazioni emozionanti come questa, di guerre, di tristezze io so che magari metto un puntino su una mappa e so che lì c'è un muro o comunque si stanno ammazzando come a Bakhmut o anche in Cisgiordania, Gaza insomma quindi sono lavori che non si fanno con leggerezza la geopoesia è nata proprio come rifugio di tutto quello che nasce dentro di me mentre disegno la geopolitica metto da parte i miei sentimenti e quando mi capita l'occasione la geopoesia si nutre di questo, io li chiamo gli avanzi non sono proprio avanzi ma sono una grande parte della mia personalità e quindi quando Flavia mi ha chiamato per questa sfida lì per lì, siccome sono già diversi anni che faccio geopoesia e l'ho sempre legata a quello che mi piaceva a me leggere quindi ho studiato alcuni poeti in particolare l'ho sempre tenuto difeso proprio da uno spazio assolutamente mio quindi qui c'era uno stimolo maggiore diciamo a dedicarmi a una regione che io non conoscevo tra l'altro e quindi mi sono detta ma io riuscirò, diluderò sicuramente qualcuno perché chiaramente qui mancheranno degli elementi che qualcuno mi dirà no ma manca questo, manca quello, mi sono subito chiesta dico ci saranno troppe lacune e quindi è stato lì per lì e gli ho detto no, non me la sento è troppo complesso poi abbiamo parlato un altro po', ho detto no va bene proviamo però qui devo scardinare tutte le regole sulle quali io mi sono basata finora le mie regole di creatività non hanno più senso io devo andare perché non è inutile che comincio a leggere, a studiare devo prima andare, cioè devo cercare di cogliere proprio il succo di tutto quello che c'è che è possibile e dopodiché studiare mirato a quello che avevo visto perché almeno così avrei ristretto un po' il campo e mi sono detta ma devo trovare un punto d'ingresso perché una regione, che punto d'ingresso? allora ho pensato guardando la mappa ho comprato una mappa stupenda, enorme, del Friuli, c'era di tutto e naturalmente il tagliamento per me è rappresentato proprio questa linea che divide quasi in due la regione che piega sotto l'arco alpino si entrava dal Veneto che insomma quella dal Cadore quindi quella zona che mi piace anche di montagna quindi mi è sembrato un buon posto poi volevo proprio entrare passando in macchina da dove nasce il fiume Tagliamento e fermarmi a Forni di Sopra che è un paesino che forse conoscete tutti molto meglio di me tre giorni lì e poi mi sarei discesa ma era successo un'altra cosa l'anno prima io ero stata al Museo di Geografia di Padova e lì per terra all'ingresso c'è una grandissima mappa una visione satellitare dell'Italia della pianura padana e si vedono queste strisce bianche appunto una di queste è quella del Tagliamento perché questa foto satellitare si fa vedere tutta la zona bianca dell'alveo del fiume dei ciottoli quella che vedete dato il mezzo giù fino al mare e quindi già a me ha colpito questa cosa mi piacerebbe lavorare pure un po' sul fiume Tagliamento quindi questo l'ho preso un po' come un segno una sfida dico allora questo è il punto giusto Forni di sopra è stato subito io sono entrata da sola e diciamo che viaggiare da soli non è proprio insomma tutto in montagna, in vacanza insomma ci sono sempre dei momenti un po' così di vuoto quindi vado sempre all'ufficio del turismo per organizzare qualche gita e lì non c'era nessuno era un deserto avevo preso appuntamento con un altro intro e c'era una signora come me che sta qui seduta qui davanti a noi si chiama Anna e subito ci siamo guardate è stato proprio un gemellaggio cioè ci siamo capite subito e tutte e due eravamo per lo stesso motivo da sole quindi abbiamo preso una guida avevamo già prenotato avevamo prenotato la stessa cosa insomma la stessa persona che ci aspettava quindi abbiamo fatto un giro bellissimo nei boschi e io insomma ho cominciato con il mio sguardo silenzioso perché essere cartografi vuol dire osservare soprattutto anche in silenzio cioè ci sono tante cose da vedere poi io ho notato questo credo che sia un fattore caratteriale perché ce l'avevo anche da piccola noto proprio i dettagli cioè gli occhi mi cade su delle piccole cose che poi diventano indelebili ma io ho visto che poi quelle cose lì si collegano una all'altra e diventano la mappa stessa e Anna era un po' come me ci aveva, guardava sapeva cosa un po' mi doveva raccontare ovviamente gli ho detto che ero lì per questo motivo quindi lei mi ha reso partecipe della storia del Friuli quindi io sono entrata praticamente dalla porta giusta posto giusto il verso giusto e ho incontrato subito la persona giusta che mi ha messo abbiamo cominciato un po' a liberare il campo di cose che servivano e cose che non servivano e questo posto è stato poi una serie di casualmente diciamo di donne perché ho incontrato una persona purezza esperta di massaggi cinesi che mi ha parlato di altre di qua che però insomma aveva studiato quindi mi ha spiegato tutte le altre cose poi è venuta Martina che mi ha preso e mi ha portato in macchina sempre in mezzo a queste tempeste perché c'era un tempo veramente da lupi quindi sono scesi dalla montagna e improvvisamente quindi tutto grigio io non ho visto un colore ho visto varie tonalità dal verde muschio al grigio scuro improvvisamente giriamo e si vede il tagliamento perché a forni di sopra l'acqua non c'è cioè dentro il fiume l'acqua non c'è c'è questo alveo anche abbastanza grande ma di acqua ce n'è proprio poca invece svoltando dopo Tolmezzo quindi il fiume Fella che entra dentro il tagliamento si vede questo verde incredibile smeraldo che io non ho mai visto in nessun fiume a colore del genere con tutto quel grigio quindi non era il sole che illuminava quest'acqua non era il verde non veniva dal cielo veniva dall'acqua e da quello che c'era dentro e questo mi ha veramente sorpreso e l'ho rivisto adesso in aereo questo colore c'era anche il sole ma era chiaramente striato era l'isonzo però striato di vari verdi azzurri cioè veramente bellissimo poi mi sono subito chiesta ma perché non c'è l'acqua alla fonte io l'ho vista sgorgare perché io mi sono fermata a vedere la fonte del tagliamento quando sono entrata e ho letto che c'è questo secondo tagliamento sotterraneo ci sono tutti questi percorsi tubi che diciamo portano l'acqua in due grandi centrali che danno energia e quindi poi dopo viene riversata proprio in quel punto cioè dopo tutto il mezzo c'è questa reimmessione dell'acqua e gli altri fiumi che scendono giù l'arricchiscono e ritorna più o meno ma insomma l'acqua è sempre pochina ma questo è un po' un problema dei nostri tempi poi naturalmente ho fatto altri giri poi piano piano vedremo ma insomma io sono tornata dopo 5-6 giorni forse 7 sono tornata a Roma piena di idee piena di occhi il cuore piena di informazioni ma quello che mi aveva colpito era la sobrietà cioè tutte le persone che ho avuto intorno nessuna mi ha detto mi ha parlato spontaneamente del terremoto delle guerre io ho chiesto ho chiesto sempre cioè è stato sempre un discorso diciamo quindi una grande modo di fare che non è educazione semplicemente è proprio come dire noi siamo qua per condividere però devi volerlo e quindi questo voler condividere solo se io ero pronta l'ho trovata una cosa veramente unica che è stata quasi una una vera magia e ho apprezzato molto c'è stato un momento del viaggio che mi ha quasi cioè mi ha molto turbato perché quando siamo passati in macchina davanti al re di Puglia io non l'avevo mai visto e non mi ero neanche informata perché non pensavo di fermarmi lì sinceramente noi a Roma siamo pieni di queste cose enormi l'altare della patria no tutto questo quindi diciamo siamo abituati a queste grandezze ma invece là noi siamo passati in macchina e Flavia non mi ha detto che eravamo arrivati io mi sono girata cioè è stato come un richiamo io vi assicuro ancora mi fa venire mi fa tremare la voce perché mi sono girata e ho visto questa cosa incredibile ho detto dobbiamo entrare pioveva stava per chiudere c'era proprio un tempo assurdo non siamo potuti entrare neanche nella trincea perché c'era il fango che arrivava alle ginocchia siamo entrate siamo arrivati fino a trovare il mio cognome e il mio cognome è quello di Lucio quindi Canali Caracciolo ci sono tutti abbiamo fatto delle fotografie ma io ho sentito che era come un'energia cioè c'era qualcosa che mi ha chiamato era proprio noi non mi sono girata in un posto sconosciuto cioè per me non c'era un cartello non c'era niente io non l'ho letto quindi questo diciamo in queste piccole cose non è che io non sono una che crede nelle magie ma penso che ci sono delle energie dei posti la geografia infatti e anche in geopolitica e anche in geoposia la geografia influisce nelle persone influisce in chi vive lì in chi nasce lì che nasce con certe caratteristiche perché i suoli i territori le rocce influiscono sulla nostra nascita quindi quello sicuramente è un posto che ancora con tutte quelle persone che ci sono io non sapevo neanche che fosse un cimitero pensavo fosse un sagrario cioè che fosse un luogo ricordo diciamo invece non è così quindi immaginate sono proprio pulita sono arrivata lì senza seda ignorante senza saperlo quindi diciamo questa è stata una grande esperienza e quindi sono andata via con questa regione addosso avevo lavorato anche per Ungaretti cioè per il mio conto quindi avevo studiato bene le poesie quindi il San Michele tutti quei luoghi e questi che ho cercato di riportare senza però da un punto di vista diverso perché appunto io ho già fatto una geopoesia dedicata a Ungaretti e a quei luoghi esattamente che stanno là comunque ho voluto iniziare questa geopoesia con il mio ricordo del terremoto perché io ci avevo otto anni nel 1976 il 4 maggio del 1976 il mio ricordo è legato a quel ragazzo che a 18 anni stava registrando lo saprete tutti stava riversando un disco dei Pink Floyd sulla cassetta perché noi sentivamo la musica in cassetta questi nastri che si strappavano arrotolavano eccetera e mi rimase molto impresso perché chi comprava l'LP all'epoca doveva riversare in cassetta e distribuirlo agli amici quindi lui probabilmente stava facendo questo e con un attrezzo a batterie per cui nonostante la corrente sia saltata ha continuato a registrare e c'è stato il registro del suono dell'Orcolat come lo chiamate voi qua questa geopoesia tutto quello che c'è in questo testo che ho scritto tutto quello che vi sto raccontando è molto di più rispetto a quello che voi vedete perché i miei pensieri che sono ampi e sono legati anche a tanti libri che ho letto qui c'è un richiamo come vi dicevo prima perché altrimenti diventerebbero almeno ci vorrebbero 20 mappe cioè per ogni puntino ci vorrebbero 20 mappe però dentro ognuno di questi pallini ho cercato di riportare qualcosa per esempio dopo vediamo in Gorizia quello lì è un ingrandimento proprio della diciamo alcune zone di edifici insomma come è Gorizia proprio per ricordare comunque torniamo un attimo a questo perché voi avete anche questo poeta Pierluigi Cappello che so che purtroppo non c'è più che ha scritto questo perché diciamo il terremoto è importantissimo io mi sono resa conto questo anche da romana anche senza venire qui c'è un prima del terremoto c'è un dopo del terremoto è come una linea non è solo una faglia geologica ma è una faglia reale che ha generato un trauma collettivo noi abbiamo alle spalle di Roma l'Aquila il terremoto dell'Aquila abbiamo sentito benissimo e diciamo è un terrore che tutti quanti noi di cui abbiamo tutti quanti e paura perché chiaramente dove la casa si trasforma in probabile che il nostro rifugio migliore si trasforma può trasformarsi in una trappola e quindi mi sono piaciute queste poche righe che lui scrive da il libro che si chiama questa libertà dice ai bambini che hanno riunito la forza della loro immaginazione per contenere il terrore del terremoto durante quella sera del 76 si è aperta dentro una faglia di precarietà e credo che la mia ossessione per la scrittura muova dal buio di quella faglia e dal tentativo patetico quanto ostinato di riavvicinarne i lembi mi è piaciuta molto questa immagine con le parole di ricucire questa ferita e anche il riferimento alla geologia quindi alla faglia che realmente passa qua la faglia periadriatica ci sono altri testi del poeta Andrea Zanzotto che è veneto che scrive delle cose bellissime descrive questa geologia particolare che sale dal mare adriatico sale su arriva intorno alle Alpi le scavalca dall'altra parte poi entra anche in valposteria e continua la sua strada però non è solo una faglia ovviamente c'è tutto un sistema geologico tutto intorno e lui il poeta lo chiama Andrea Zanzotto lo chiama precario eterno perché è chiaro che per esempio per noi umani mentre succedono queste cose la terra è un modo di non rigenerarsi crescere cioè la terra si muove così quindi per noi è sconvolgente però per lei è il suo modo normale diciamo di pianeta e lui sempre questo poeta scrive così qualcuno ha appena versato con fragore nel cassonetto in fondo alla via un carico di bottiglie vuote sento un cane abbagliare in lontananza tutto è fermo tutto potrebbe mutare cioè questa idea che è tutto fermo è una serata la giornata è finita è tutto a posto ho lavato i piatti ho messo tutti i bambini a dormire è tutto a posto e tutto potrebbe mutare in quel momento come sappiamo bene quindi lui in poche righe descrive secondo me benissimo quello che è successo comunque andando avanti nella nostra io ho scelto il tagliamento e ovviamente come lo potete vedere in questo disegno è rappresentato in due modi il primo per me è quest'anima centrale tutti questi sassettini bianchi è esattamente cioè io ho ingrandito la mappa che ho comprato del Friuli ho scansionato quell'anima al centro e l'ho ridisegnata per renderla diciamo l'azzurro che vedete che è un po' in trasparenza tutti questi sassettini bianchi che se si possono vedere da vicino non sono tondi sono esagonali perché questi sassetti sono le alpi che si sgretolano nient'altro tutti i sassi tutti i residui che vengono giù dalle alpi le alpi fra migliaia di anni o milioni non lo so non ci saranno più sempre parlando di questo eterno questo nostro pianeta che si muove in un certo modo questo è la sabbia che c'è a grado e tutta la palude che scende giù chiaramente è sempre quei ciottoli ormai sminuzzati fini 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 che è diventata sabbia ed è una sabbia antica infatti più la sabbia le sabbie più sono morbide più sono sottili e più è sabbia materia antica quindi questo lavoro continuo di discesa dalle montagne se voi immaginate quando una montagna gela per esempio d'estate improvvisamente c'è una tempesta l'acqua entra dappertutto e per un motivo X congela perché la temperatura scende improvvisamente ci sono quelle state in cui ci sono dei momenti di grandi sbalzi termici dovete pensare alla roccia il ghiaccio si gonfia quindi entra dentro e la roccia si spacca tutto questo gonfiare sgonfiare è il movimento naturale della roccia e della montagna quindi la montagna è vivente la terra è vivente ma quella si sgredola e è il suo modo naturale quindi quello che noi vediamo trascinato dai fiumi è il residuo di tutto questo movimento e quindi io ho voluto trasportare una porzione diciamo di questo tagliamento al centro proprio per come se fosse una spina dorsale perché poi anche voi quando parlate a est dettagliamento a ovest dettagliamento quindi è un riferimento proprio importante e ho pensato però dopo mi sono detta siccome a me legge poesie sì va bene il lavoro artistico io potrei se faccio un lavoro artistico posso fare uno schizzo e dire che quello è il mare adriatico e che mi sta pure bene però a me piace che ci siano dei riferimenti cioè mi piace che le persone riconoscano i luoghi quindi qui diciamo l'inizio la curva del mare adriatico è come è quantomeno su questa carta perché mi piaceva che le persone riconoscessero quindi ho messo i fiumi come sono in proporzione diciamo al golfo e come arrivano dentro naturalmente ho messo proprio la figura del friuli Venezia Giulia la macchia della regione perché non era era troppo didascalico non era indispensabile invece qui ci sono tutti gli elementi per i confini e se osservate bene la vostra regione è una regione che si divide verticalmente per i fiumi cioè questa verticale e questo mi ha fatto pensare all'Ucraina perché quando è iniziata la guerra in redazione abbiamo osservato bene la mappa dell'Ucraina abbiamo guardato sappiamo benissimo che storicamente ha sempre avuto questa posizione di marca una zona di confine come anche qua e questi fiumi in verticale perché in Ucraina c'è la stessa situazione e c'è anche una zona molto paludosa alla fine perché verso il Mar Nero e verso il Mar Dazzov c'è tutta una zona di palude la famosa stagione del fango di cui noi sentiamo sempre parlare dal punto di vista strategico e militare la stagione del fango e si scioglie il ghiaccio e quindi diventa tutto fangoso perché è comunque diciamo sotto il livello del mare e come qui si vede anche arrivando in aereo c'è tutta la zona della palude quindi ci sono delle similitudini e poi il fatto dei fiumi rende come dei passaggi militari come se fossero delle barriere militari dei passaggi obbligati si va da un fiume all'altro per difendere il territorio per guadagnare territorio quindi ci sono notato diciamo questa similitudine e certo noi siamo molto più fortunati perché il fiumi è molto più piccolo l'Ucraina è più di due volte l'Italia quindi insomma stiamo parlando di grandezze completamente diverse io dunque scusate devo un po' riferirmi a tutto quello che è perché vado un po' a braccio ecco quando ho iniziato a disegnare la prima io ho iniziato per altri vie non ho iniziato del tagliamento ho iniziato da Gorizia perché secondo me Gorizia rappresenta proprio la separazione ovviamente era così vicino al confine poi il fiume a Gorizia la abbraccia ma è come se la spingesse un po' fuori quindi c'è questo strano modo il fiume lì non protegge la città quasi la spinge verso fuori e quindi però mi ha colpito tantissimo la storia del cimitero di Merna perché questa appunto diciamo lì è un po' una testimonianza del passaggio della nuova frontiera tra Gorizia e Nova Gorica questo piccolo cimitero che attualmente non si trova neanche a Nova Gorizia perché sta un po' più sotto quindi è Rosnadolina Valdirose sarebbe piccolo centro leggermente staccato da Nova Gorica subito dopo il 1947 fu diviso in due il cimitero da una rete metallica nel 1975 però in seguito al trattato di Osimo firmato da Italia ex Yugoslavia il cimitero è stato riunificato e adesso è interamente in Slovenia ma perché mi ha colpito? perché in quel cimitero c'è l'unica testimonianza della diciamo della comunità ebraica di Gorizia perché a Gorizia non c'è più una persona non c'è più un ebreo e sono stati tutti sterminati durante la seconda guerra mondiale e c'erano delle personalità importanti che sono seppellite in questo cimitero quindi per esempio lo scrittore filosofo poeta e pittore Carlo Michel Stetter e soprattutto sempre facente parte della famiglia giornalista Carolina Luzzatto Cohen che era stata la prima direttrice di giornale italiana quindi diciamo mi piaceva ricordare queste persone dentro questa poesia quindi io qua metto due sfere anche se di là appunto non si tratta più di Friuli e di Italia di Friuli Venezia Giulia scusate e di Italia ma già di Slovenia e poi c'era il grande nodo del San Michele perché appunto anche lì avrei dovuto avrei potuto usare un garetti che l'ho studiato tanto ho già fatto tanti disegni le emozioni che mi dà sempre sono incredibili poi lì penso di aver realizzato una delle geopoesie migliori della mia vita però non volevo riprodurre questo concetto che avevo già lavorato volevo una cosa nuova e qui Anna è stata fondamentale perché a un certo punto mi ha mandato un testo lei non sapeva perché queste comunicazioni io non gli ho detto che cercavo una cosa per il Monte San Michele ovviamente è stata una nostra comunicazione che ha sempre funzionato e questo vi leggo brevemente questa descrizione di una giornalista austro-ungarica questo Monte San Michele sta davanti agli italiani come un pugno chiuso battuto sul tavolo risalendo dal polso alle quattro nocche fortemente sporgenti le famose quattro cupolette rotonde del San Michele l'altopiano somiglia moltissimo al dorso di una mano le altrettanto famose posizioni sull'isonzo costituiscono il pollice le dita che stringono il versante nord e sulle quali si infrange giorno per giorno il fiorfiore dell'armata italiana non sono visibili da qui ecco questo mi è piaciuto diciamo scegliere queste bellissime descrizioni molto aderenti al territorio difficile da vedere questa forma di pugno ma è così cioè quello che voi vedete quella sagoma azzurra a parte l'interno cioè la forma esterna è esattamente com'è l'ho presa dalla mappa topografica che avevo l'interno l'ho fatto io perché era un po' diverso però non veniva bene dal punto di vista anche proprio artistico quindi lì mi sono permessa di fare un cambiamento però poi ci sono c'è questa costellazione che io metto e sono le famose località insomma che anche Ungaretti scrive nelle sue poesie quando mette il titolo ci sono questi luoghi come se fossero ognuna quasi una come se fosse una lapide cioè questi nomi la data lui scrive la poesia il titolo proprio come fosse una lapide quindi diciamo ecco questo almeno è un richiamo a Ungaretti e poi questa questa piccola costellazione che non è una costellazione ma un cazzotto in pancia come ci descrive la nostra giornalista io l'ho messa esattamente esattamente certamente sempre un po' di libertà accanto al fiume lo vedete là sotto sotto a Gorizia no? eccole perché stanno lì dal punto di vista geografico poi le ho riflettute lì in alta a sinistra perché queste sono quelle cose che sono indelebili nella storia di tutti quindi è come se sempre io l'ho trattata come una costellazione ma sempre cazzotto è e quindi però deve rimanere proiettato perché tutti lo devono vedere non se lo devono dimenticare lo stesso per Caporetto che sta in alto a destra che io ho messo lì come fosse quasi il nome di una cima di una montagna perché anche quello è un evento ormai lì è Slovenia però anche quello è un evento italiano fondamentale che deve rimanere nella nostra storia comune e quindi che è nella nostra storia comune e quindi diciamo ho trattato queste due geografie così in modo diverso però per cercare proprio quelle montagne ho preso da un bellissimo libro che mi hanno regalato qui dei profili proprio esattamente delle alcune zone delle vostre montagne non tutte perché altrimenti sarebbero diventate troppo piccole e quindi perdeva questo effetto e ho pensato non volevo usare i colori nell'ambito sotto ma mi piaceva questo fatto di avere sopra i colori cioè le montagne così tutte colorate una diversa dall'altra come se riportassero il riflesso quello che si vede normalmente durante tutto il territorio allora ecco passiamo un attimo invece a Trieste perché in questa mappa i toponimi veri io li ho messi piccolini vedete scritto Trieste piccolo ogni luna ogni satellite ogni pianeta c'ha là su il suo nome però poi per me i toponimi geopoeti da geopoeta sono quelli in questo carattere corsivo quindi per me Trieste in questo caso è piazza Oberdan allora questo è stato divertente divertente non è divertente ma nel senso che mi sono resa conto quando ho raccontato le ragazze che mi hanno accompagnato in questo viaggio sono stata contenta di avere io raccontato una storia perché loro non la conoscevano e quindi ho arricchito il panorama diciamo in questo caso quindi questa mia mappa Trieste diventa piazza Oberdan e a piazza Oberdan nel 19 marzo del 45 si erano dati appuntamento a due ragazzi innamorati Giuseppe Robusti detto Pino e Laura Molli la sua fidanzata quelli erano giorni particolari i nazisti tennero Trieste fino al primo maggio del 45 in quei giorni di marzo tra il terrore e la ferocia la spinta e il desiderio di abbracciarsi diventa un bisogno impellente e i due ragazzi decidono di aspettarsi lì ma purtroppo Pino studente della facoltà di architettura verrà fermato interrogato e arrestato dai soldati tedeschi prima lo portarono nel carcere di via Coroneo e poi alla risiera di San Sabba lager nazifascista e lì perse la vita i primi giorni di aprile è stata proprio una cosa velocissima in piazza Oberdan c'è un monumento adesso in bronzo che raffigura una coppia abbracciata sono Pino e Laura l'artista che l'ha creata è Marcello Mascherini le due figure sono giganti infatti sono alte centimetri 460 4 metri e mezzo sì perché l'amore è grande è potente e la morte è comunque un'azione che genera altre azioni il bacio mai dato di Pino a Laura ha scritto la loro storia per sempre indelebile Pino ha lasciato una lettera a Laura non è solo un addio ma anche una rassicurazione su ciò che è accaduto tra loro grazie al loro amore perché questo ragazzo che si è trovato a passare dall'amore all'idea che avrebbe vissuto una vita anche di studente eccetera ha condannato a morte senza un motivo e lui cosa ha fatto si è preoccupato del futuro di questa ragazza perché evidentemente hanno fatto l'amore e quindi lui voleva lasciare una traccia che lei aveva preso delle decisioni per amore e che non c'era da vergognarsi per questo e che lui l'avrebbe sempre protetta e che lasciava scritto che era stata una storia molto bella di grande amore e che chiunque che lei non doveva avere paura di superarlo e di amare qualcun altro quindi lui scrive io credo che tutto ciò che tra noi vi è stato non sia altro che normale e conseguente alla nostra età e sono certo che con me non avrai imparato nulla che possa nuocerti né dal lato morale né dal lato fisico ti raccomando perciò come mio ultimo desiderio che tu non voglia o per debolezza o per dolore sbandarti e uscire da quella via che con tanto amore cura e passione ti ho modestamente insegnato questo lo trovo veramente bellissimo addio Laura adorata io vado verso l'ignoto la gloria o l'oblio sii forte onesta generosa inflessibile Laura Santa il mio ultimo bacio a te che comprende tutti gli affetti miei la famiglia la casa la patria i figli addio Pino Trieste è una grande sfera verde con all'interno tante sfere argentate voi spero che si veda un po' queste palline sono una io l'ho disegnata facendo riferimento a una fotografia che ho fatto io qui è una porzione di un'areola di un santo che ho fotografato dentro la chiesa di Sant'Antonio Abate a San Daniele del Friuli si trova nel presbiterio dipinto dal pellegrino nel 1522 e qui è stata un'altra sorpresa perché sempre un cielo sempre una tempesta anzi quel giorno era veramente tempesta c'era l'acqua che usciva dappertutto e io e Flavia eravamo bagnate che facciamo entriamo dentro questa chiesa per rifugiarci siamo state accolte da un colore perché è tutto coloratissimo è tutto è vivacissimo io sono rimasta sconvolta senza parole arancio giallo poi si sono accese le luci da sole perché non sappiamo neanche c'è un automatismo diciamo che consente questo e quindi questo è è stato bellissimo e questi colori li ho ritrovati ad Aquileia quindi dentro Aquileia dove c'è tra l'altro questo nodo di Salomone per quello che ho scelto di mettere al posto di Aquileia il nodo di Salomone perché lì è tutto bellissimo però il nodo di Salomone mi ha colpito perché è un è un simbolo così moderno contemporaneo sì diciamo nordico non è nelle nostre chiese non Roma non so che orario ho fatto ho guardato scusate le giovesi mi trascinano sempre devo finire e quindi ho voluto mettere questo come simbolo anche perché rappresenta un po' un gomitolo è un gomitolo di fili che è la vita di tutti noi con dolori e gioie e quindi questo miscuglio mi piaceva e poi ho scoperto che il nodo di Salomone appunto ci avvicina alla divinità al concetto proprio di unione col divino e anche un tasto del computer se ci fate caso Apple ha questo tasto con questo simbolo che noi chiamiamo Mela chi lo usa e invece è il nodo di Salomone quindi mi piaceva infatti ha un'area così contemporanea veniamo a Gemona così lasciamo lo spazio al direttore che per fortuna mi conosce bene mi perdoterà a Gemona ho avuto un problema dico come faccio a Gemona che è insomma il fulcro di questa anche di questa geopoesia della motivazione di tutto e quindi qui io mi sono innamorata di Gian Giuseppe Liruti che voi avete ovviamente la mappa lì qua fuori sulla strada e l'ho trovato un genio perché lui nelle sue mappe le sue mappe lui non era era un cartografo come era anche tanto altro eclettico nella sua personalità ma soprattutto penso che deve essere stata una persona molto divertente perché nelle sue mappe c'è una grandissima energia si vede c'è un tratto deciso poi c'è queste mura a cuore c'era proprio si vede che c'è un taglio particolare dovuta al fatto che lui evidentemente si sentiva libero anche di rappresentare perché i cartografi rappresentano un mondo che è anche non solo interiore però quasi tutti interpretano quasi tutti mettono aggiungono noi abbiamo io ho regalato a lui per i 70 anni quest'anno una mappa di un cartografo a Roma che ha rappresentato i sette colli in modo completamente autonomo che sono diversi da come sono adesso quindi insomma mi piaciuta questa interpretazione l'ho voluto trasformare Gemona nella luna in una luna intorno al quale ruota tutto questo sistema e mettere al centro questo disegno favoloso e qui quando l'ho guardata praticamente avevo finito ho detto eccolo là è successo è venuto fuori il Friuli a un piccolo compendio dell'universo al pestre piano e lagunoso in 60 miglia da Tramontana a Mezzodì come disse Ippolito Nievo e questa frase era quella dalla quale io mi sono voluta tenere lontana per tutto il tempo e invece quando l'ho guardato il disegno ho detto non c'è niente da fare questo è il compendio dell'universo e mi ha colpito grazie 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 a tutti grazie a tutti